buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 16 gennaio 2024 e si festeggia san marcello papa lo vediamo nella grafica eccolo qua visse nel terzo secolo ebbene resse la chiesa in un periodo molto particolare quello delle persecuzioni quelle delle persecuzioni di dio cleziano che furono molte ferrate e quelle del suo successore massenzio marcello fu condannato a servire come stagliere in una stalla così trasformata dal dall'impianto di una chiesa di una casa chiesa quella volta ancora sotto le persecuzioni non c'erano le chiese che ufficiavano la luce del sole le cerimonie le messe si celebravano all'interno delle delle case questa casa dunque era trasformata in una chiesa fu scoperta dall'imperatore che la usò come stalla e papa fu condannato a essere lo stagliere ecco perché viene considerato protettore degli staglieri e delle scuderie san marcello papa le previsioni del tempo oggi abbiamo una nuvolosità irregolare a tratti compatta nei cieli delle marche possibili e locali piovaschi la notte e nuovamente la serata massime fino a 12 13 gradi i venti vengono sulle coste da nord ovest dall'entroterra da sud e dovest il mare è leggermente mosso il sole sorge alle 7 41 e tramonta alle 16 e 51 ed ora apriamo i giornali sulla pagina di fano a partire dal corriere adriatico e vediamo l'apertura dedicata ai lavori all'inizio anzi dei lavori di piazza andrea costa al via i lavori in piazza andrea costa salvati ambulanti e posti auto è uno degli interventi più rilevanti questi dell'amministrazione seri giunto a conclusione dopo un lungo iter burocratico ebbene si cominciano i lavori di arredo la piazza verrà rifatta per quanto riguarda la pavimentazione e quindi si faranno anche degli scavi di carattere archeologico il sito è particolarmente sensibile perché lì furono trovati in passato molti reperti di carattere romano comunque lo scavo non sarà molto profondo 30 40 centimetri lo stato romano si trova molto più al di sotto però insomma non si sa mai e quindi la sovrintendenza sarà presente con una cooperativa di archeologi che vigilerà sugli scavi e poi verranno salvaguardati i parcheggi e c'è stata tutta una trattativa un coinvolgimento con gli ambulanti i quali non verranno sacrificati dai lavori in atto lavori che riguarderanno zone e via via che procederanno sono zone limitate e quindi si procederà non nello sconvolgere tutta la piazza ma semplicemente zona per zona e questo è un modo corretto di procedere l'intervento si svilupperà in cinque zone per mantenere la funzionalità dell'area ed ora parliamo di politica parliamo di politica perché in questi giorni e lo sarà ancora per diverso tempo è la politica è alla ribalta in vista delle prossime elezioni amministrative la lista civica bene comune indica la terza via la lista civica bene comune che è collegata in modo molto stretto con il movimento 5 stelle ha tenuto la sua assemblea nella sede del poderino nell'ambiente sottostante la scuola media nuti ebbene per quanto è stato definito è stato delineato un percorso che si trova in consonanza di vedute con il movimento 5 stelle come ho detto partito socialista verdi fanno ribella e la fanno dei quartieri i cosiddetti progressisti sono loro quella parte del centro sinistra che non trova una sintonia con la parte che al momento è al governo della città non si trova una unità di intenti e per il momento sembra che alle elezioni si vada devi divisi e il bene comune ha indicato una discontinuità rispetto a tutti i provvedimenti assunti dalla giunta seri e chiara discontinuità con le amministrazioni seri da una visione di città e da programma innovativi l'obiettivo è recuperare al voto sia gli scontenti delle giunte a guzzi e seri sia coloro che non vanno più a votare questo è quanto è stato dichiarato e ci sarà prossimamente la prima seduta del consiglio comunale di fano del 2024 e il corriere adriatico mette in evidenza il pressing effettuato dal consigliere comunale del partito democratico fumante fumante prende in considerazione le istanze del comitato dell'arzilla ovvero degli abitanti che abitano nei pressi dell'arzilla preoccupati dalle possibili esondazioni delle torrente rischio di esondazioni chiesti interventi urgenti enrico scusate enrico fumante dice a tutti i consiglieri guardate qui non si scherza qui la situazione è veramente emergente quindi occorre intervenire per salvaguardare le abitazioni ed effettuare tutte quelle iniziative di carattere preventivo che possono evitare le bizze dell'arzilla l'arzilla è un torrente che sa di solito molto calmo placido quasi un rigagnolo ma sa trasformarsi anche in un fiume impetuoso il pressing di fumante per l'arzilla addirittura tre interrogazioni ancora politica sulla seconda pagina del corriere adriatico e vediamo che cora fattori assessore nel comune di fano all'ambiente e alla cultura è stata nominata dal partito a cui appartiene più europa coordinatrice a livello regionale fattori responsabili di più europa uniamo i diritti e l'innovazione l'assessora diventa referente regionale per la scelta della direzione nazionale una scelta effettuata da emma bonino e poi da riccardo magi federico pizzarotti pier camillo falasca e benedetto della vedova insomma il direttivo nazionale di questo partito che fa riferimento all'europa l'europa è un po l'indice di riferimento di questa forza politica un'europa che è di solito benevola ma può essere anche matrigna e in questo caso cora fattori pone in evidenza le decisioni che vengono assunte il perché vengono assunte insomma c'è una spiegazione è un riferimento molto molto diciamo così che va al di là dei confini nazionali cora fattori ha enunciato i capisaldi di più europa con l'intento di stendere il radicamento del partito a livello territoriale ovviamente quali sono questi settori in cui si interviene soprattutto l'ambiente l'energia un fisco sostenibile la formazione la cultura l'università la ricerca il contrasto all'evasione fiscale la riduzione del rapporto debito pubblico pil noi ha detto caora fattori puntiamo molto sulla professionalità e cerchiamo di rigettare una politica facile e populista e per quanto riguarda fano ha evidenziato i progressi raggiunti per l'efficientamento energetico lo sviluppo economico e l'impegno di consolidare tutte queste decisioni l'ufficio europa per esempio ma anche l'energy men insomma tutte queste figure nuove che ora devono essere consolidate all'interno dell'amministrazione comunale e qui vediamo un articolo che tira in ballo la ferragni pigiama ferragni in vendita rivolta social un indumento griffato offerto a 70 euro su un gruppo fanese provoca raffica di improperi ebbene una persona ha messo in vendita per 70 euro un pigiama di chiara ferragni in un popolare gruppo social fanese e invece di proposte ha acquisito una serie di improperi insomma c'è la gente che si ribella ormai a tutto ciò che strumentalmente viene fatto così in nome di questa di questa referente del social ed ora parliamo della ferrovia adriatica ne parliamo ogni tanto è un argomento di grande discussione ancora non ci sono fatti concreti che rendono esecutiva a parte un progetto ideale di spostamento e si attende veramente poi che chissà quanto inizieranno i lavori perché fanone beneficerebbe alquanto ferrovia adriatica da arretrare in sinergia con la fan urbino l'architetto tamino relatore al convegno a un convegno di giovedì prossimo giovedì prossimo infatti 27 giovedì prossimo alle ore 17 e 30 nella sala pedinotti in via arco d'augusto 80 palazzo martinozzi ci sarà un convegno dedicato proprio alla ferrovia alla spostamento della ferrovia dalla costa leggermente verso l'entroterra e così si sposterà anche la stazione ferroviaria dal ministero sono stati stanziati 5 miliardi il progetto di interesse europeo riguarda fano il suo territorio si profila una rivoluzione della mobilità perché poi la stazione ferroviaria è un attrattore di traffico e deve essere poi collegata con il centro urbano e con le zone di maggiore rilevanza turistica una possibile linea fondamentale di intervento e la rigenerazione urbana di tutto il complesso in chiave sostenibile all'ex asilo sorgerà un centro dopo di noi e in questa notizia siamo a Fossombrone gli assessori Giombini e Chiarabilli annunciano 715 mila euro del PNRR saranno utilizzati per un investimento in collaborazione tra i comuni di Fossombrone e Sant'Ippolito per costruire un edificio un asilo nido in viale Gramsci a Fossombrone che viene ristrutturato perché versa così in maniera molto precaria da diversi anni quindi un un investimento molto importante per Fossombrone ed ora passiamo a pergola nella piazza caos sosta e marciapiedi pericolosi è una denuncia che evidenzia massi della Confcommercio che torna a denunciare la situazione vicino al museo di bronzi e più che le parole sono significative in questo caso le fotografie le immagini e vediamo qui il marciapiede dissestato di piazza della Repubblica e quindi si sollecita l'amministrazione comunale ad intervenire e vediamo anche le notizie di Senigallia dove si parla del lungomare da Vinci ancora chiuso la ditta ha dovuto procrastinare la fine dei lavori sono state anche le feste natalizie ora si procede ad oltranza è stata chiesta la proroga stop al traffico fino al mese di marzo all'ex colonia Enel il comune a intervento completato riaprirà questa strada alle auto dal primo gennaio avrebbero dovuto riaprire questa questi itinerari ma gli automobilisti hanno pazientato essendoci di mezzo anche le feste che hanno comportato ovviamente una pausa di lavori e ora il comune ha concesso ha concesso una dilazione per poter terminare questo importante lavoro questo importante investimento e vediamo anche un'altra notizia che riguarda Senigallia si parla di una fiction televisiva che richiede comparse e a Senigallia veramente c'è stata una ressa di comparse a tutto spiano il casting della fiction Alex e Zeno alla rotonda 1600 aspiranti attori pensate tutti in fila per i provini sfidando il freddo il 5 febbraio inizieranno le riprese della serie tv ebbene questa iniziativa ha veramente solleticato tanti giovani ma anche tante persone adulte a Senigallia si tratta di un cast dove primeggia Marco Bocci poi Diego Ribon Federica de Benedittis una vetrina senza precedenti per la città che fornirà lo sfondo un po' come è stato Gubbio oppure Spoleto per la nota fiction del prete che insomma è un investigatore sappiamo benissimo come questa serie poi ha raggiunto l'ottava la nuova l'undicesima l'undicesima serie insomma ha avuto un grande successo e soprattutto è una bella vetrina per la città di Senigallia ed ora vediamo la pagina di Pesaro dove ovviamente primeggia la notizia della inaugurazione di Pesaro città della cultura e vediamo qui il programma che è stato enunciato proprio nella giornata di ieri alla fondazione pescheria dal sindaco Matteo Ricci e dal vice sindaco della città di Pesaro ebbene Mattarella come una rock star record di presenze all'arena ebbene un programma molto molto fornito di personaggi che sono alla ribalta prima di tutti ovviamente il presidente Mattarella dalle 11 del 20 gennaio la cerimonia inaugurale inizierà alla vitifrigo arena con il presidente della repubblica presenta Paolo Bonolis 11 30 diretta tv su Rai 3 dalle 16 nel pomeriggio entrata libera per il concerto di Max Gazzè quindi si può entrare tranquillamente senza pagare il biglietto dalle 19 entrata libera per ballare con l'orchestra Casa Dei dalle 22 30 invece si paga il biglietto perché è in pedana once a fear con rosa chemical svelato dunque il programma completo della cerimonia inaugurale della capitale italiana della cultura sabato prossimo previste più di 8 mila persone e sono stati aggiunti anche 500 posti per riuscire a soddisfare tutte le richieste giriamo la pagina sul Corriere Adriatico e vediamo questo articolo ecco questo qua che volevo che volevo segnalarvi insulti al cacciatore che uccise un pitbull belloni assolto solo parole generiche prosciolti con formula piena dall'accusa di difamazione l'assessore è una sua coimpitata coimputata stretta di mano dunque in tribunale la vediamo qui nella fotografia tra l'assessore belloni e il suo legale gherardo saragoni lunghi insomma che l'ha difeso in merito a questa vicenda giudiziaria ed ora passiamo al resto delle carlino il resto del carlino denuncia una insufficienza strutturale nella stazione ferroviaria di fano manca l'ascensore e questo è veramente un problema per i disabili un problema che ha rovinato le feste ad una famiglia ascensore guasto train off limits per i disabili in stazione ci hanno detto di andare a pesaro addirittura ebbene l'articolo parla dell'ammarezza di una mamma si chiama liglia avevamo anche avvisato tramite prenotazione 48 ore prima costretti a passare il natale da soli dovevamo andare dai nostri parenti a modena invece abbiamo passato il natale a casa nostra perché con la carrozzina c'è stato impossibile prendere il treno dalla stazione di fano è veramente la stazione di fano è una delle stazioni più trascurate nelle marche eppure siamo la terza città delle marche vengono segnalati diversi disservizi il fatto che i treni non fermano e il fatto anche poi in passato ci sono stati allagamenti del sottopasso problemi di strutture che non vengono curate a dovere insomma un problema che deve essere risolto con maggiore attenzione da parte dell'ente ferrovie addio anna frulla patinò fino a 80 anni si tratta dell'ex campionessa italiana calzolaio calzolaia che si è spenta domenica all'età di 86 anni i funerali di anna saranno questo pomeriggio alle ore 15 e 30 nella parrocchia di san piodecimo al poderino rincari ed ora passiamo a quella notizia che ha prevalso sul risultato sportivo domenica allo stadio mancini rincari alma una protesta civile politici schierati a fianco dei tifosi un gruppo di tifosi numerosi tifosi anzi sono hanno sostato fuori dello stadio mancini durante la partita tra l'alma juventus e il fossombrone conclusasi a zero a zero e tra loro c'erano anche due assessori c'era ettiene lucarelli e il vice sindaco cristian fanesi dopo lo sciopero in occasione del derby fanno fossombrone continuano le polemiche contro la società panaroni movimento 5 stelle dice scelte arroganti brandoni della lega toni forti ma senza mettere in pericolo nessuno il presidente del club di supporti luca navacchia la gogliardia la fatta da padrone non sono stati episodi di violenza in merito a questa cosa bottiglia a pezzi al primo colpo ok il varo del mega yacht wider progettato e costruito nel nuovo cantiere a breve prenderà il largo verso le isole baleari e si parla del del varo di questo mega yacht che è avvenuto la settimana scorsa al porto di fano costruito dalla wider più europa punta su fattori e coordinatrice regionale l'attuale assessore alla cultura 43 anni ingegnere edile eppure candidata alle primarie del centro sinistra vogliamo diventare un punto di riferimento ha detto per quanto riguarda l'estensione dei partecipanti degli aderenti al suo partito a livello territoriale a centro pagina una iniziativa che riguarda le scogliere di metauriglia a giorni affideremo i lavori ha detto il vice sindaco cristian fanesi in più altri interventi in partenza a sud dell'area del bersaglio mentre a sassonia e nei dintorni anfiteatro demolito ma lavori fermi brunoria sicura tutto a posto si parla dell'intervento del waterfront che si svolge a sassonia che ha comportato la demolizione dell'anfiteatro rastat ci sono state delle stasi delle pause per verificare un po il sondaggio del terreno per verificare la natura del terreno e la solidità del terreno per poi costruire la nuova piattaforma nessun intoppo dice l'assessore brunori per gli altri 101 cantieri l'assessore fa il punto su quanto accade la città è veramente ha detto l'assessore parliamo della carica dei 101 perché veramente i cantieri in atto sono tantissimi ricette a penna il medico si allinea a giorni la svolta del computer a terre roveresche anche l'azienda sanitaria conferma stiamo dando al dottor spadoni tutto il supporto necessario ebbene entro la fine di questa settimana al massimo per l'inizio della prossima l'ambulatorio di terre roveresche del medico di medicina generale marcellino spadoni sarà in grado di fornire tutti i servizi compresi quelli legati alle procedure informatiche sapete che per ricevere una ricetta la si può richiedere via internet arriva sul computer o sul telefonino e con questo ci si può recare in farmacia a urbino a urbino paura per lo scuolabus a fuoco in lesi tre studenti è un incidente che si è verificato ad un ad uno scuolabus l'autista si è accorto in questo caso che usciva del fumo dal motore e si è fermato facendo subito subito scendere i passeggeri il mezzo poi è andato distrutto si tratta di un incidente che è accaduto a ca bagnino tra pieve di cagna e ca mazza 7 tutti in salvo in columi i quattro passeggeri che erano a bordo per fortuna e poi l'organico del tribunale di urbino va subito implementato c'è una interrogazione dei parlamentari fatta al ministro da parte di dori europa verde e zanelli alleanza verdi e sinistra vediamo ancora una pagina del resto del carlino che riguarda l'entroterra una pagina completa dedicata a cannavaccio a cannavaccio si parla della variante del cemento su un'area archeologica inesplorata l'appello del professor pino mascia il comune ha ignorato una perizia che rivela un'altra probabilità di tesori sepolti e qui vediamo invece una bella una bella una bella immagine di dipinta da un un illustre grafico del resto del carlino come giombetti e qua vediamo le evoluzioni della storia che hanno interessato cannavaccio dall'epoca romana e poi l'epoca medievale fino ai giorni nostri ecco perché quello è un territorio da sondare in maniera molto molto puntuale e attenta per quanto riguarda i reperti archeologici e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci